Benvenuti in questo tutorial che vuole essere una guida ed un aiuto per tutti coloro che vogliono cimentarsi nella programmazione iso per quanto riguarda i torni a due assi e la tornitura in sé. Io mi presento, sono un consulente aziendale, mi chiamo Daniele, ho lavorato per 25 anni sul campo nel senso che sono stato titolare di un'azienda che si occupava di lavorazioni meccaniche e ho poi deciso di proseguire per una strada rivolta di più all'apprendimento, mi è sempre piaciuto insegnare il mio mestiere agli anni. Questi tutorial hanno questo scopo, spesso e volentieri vado nelle aziende e gli operatori macchina mi dicono mi piacerebbe saper programmare. La mia risposta è molto semplice, la prima risposta fondamentalmente è una domanda, la domanda è ma accadrà? Sai usarla una Playstation? La risposta è sempre sì. Sai usare un telefonino, un decoder? La risposta è ovviamente sempre sì. Chi ti ha insegnato? Che corsi hai fatto? La risposta è sempre, nessuno ha imparato da me. Ecco, la stessa cosa si può fare per la programmazione iso, perché la programmazione iso altro non sono che dei codici prestabiliti dai produttori di controlli numerici per far fare al tornio ciò che si desidera. Quindi basta aprire un libro e imparare. L'unica cosa che serve è la buona volontà. Quello più difficile per quanto riguarda la tornitura è imparare la gestione del trunciolo, la deformazione dei pezzi, la preparazione delle griffe, il bloccaggio del prodotto in macchina e quant'altro. Quello si impara principalmente con l'esperienza, con tanti tanti anni di attività e se si è fortunati, con il vecchietto, il nonnino, il mentore che ti spiega un po' tutti i suoi segreti. Farlo su un computer è quasi impossibile, però possiamo su un computer, grazie agli strumenti di oggi, cominciare a vedere quella che è la programmazione iso e dare una strada un po' più semplice ai giovani d'oggi del libro da sfogliare ponendoci un'alternativa, cioè quella del tutorial bibile. Bene, da lì voglio cominciare con due software, uno molto semplice che è quello che già vedete, che altro non è che un tornietto a due assi dove noi possiamo andare ad inserire il codice iso, dove noi possiamo andare a vedere le lavorazioni che facciamo in macchina, andare a posizionare più utensili sulla torretta, tutti quelli che diciamo ci vengono in mente, non abbiamo una programmazione diretta, non abbiamo una programmazione parametrica, è una programmazione punto punto, vi spiegherò un po' lentamente cosa sono tutte queste cose, per cominciare a muoverci nello spazio degli assi cartesiani, questo è un primo step che affronteremo. Un secondo step sarà quello di andare a usare un software un pochino più serio, un software che come vedete richiama quello che è un CNC funk, un CNC funk con tutti quelli che sono i suoi pulsanti di automatico, di edit, mdi, la tastierina, l'antipatica tastierina FANUC, questo FANUC ha sempre la programmazione punto punto, ma ci permetterà di inserire delle macro di sgrossatura e quelle le andremo a vedere nei prossimi step. Un'altra cosa che mi preme sottolineare prima di iniziare questo corso, non è importante imparare a memoria i codici, le M, le G, le macro di sgrossatura, ma è importante capire come funzionano, solo capendo come funzionano noi saremo i bravi dormitori, perché se noi impariamo la memoria, le macro fanno e poi ci spostano su Fukuma, Simmons e diciamo al nostro titolare, ah ma io questo non li so usare, questo ci dice allora sei un deficiente. No, io queste non le conosco, le imparo, perché la logica della programmazione ISO ce l'ho, se io ho la logica allora posso imparare a lavorare su qualsiasi CNC, posso imparare a lavorare su una fresa a quattro assi anche se ho sempre lavorato sul torneo, poi mi mancheranno magari delle specifiche tecniche, ma non è mai il CNC che ci deve spaventare, piuttosto le tecnologie in essere durante la lavorazione. Quello è quello di cui dobbiamo poi preoccuparci una volta che abbiamo imparato il codice PINDA. Ed infine visto che non sono assolutamente meno importanti, ma al mondo d'oggi forse sono direi più che indispensabili nelle aziende che vogliono rimanere a passo con i tempi, daremo un'occhiatina anche a quello che sono gli strumenti diciamo tecnologici che vengono in aiuto al tornitore, in questo caso il CAM. Il CAM è senz'altro una bellissima cosa, molti credono che basti il CAM per avviare un'azienda di tornitura, in realtà non è così, bisogna implementare l'esperienza del tornitore diciamo sgamato, con un occhio in più per la produzione, ha gli aiuti molto interessanti che possono venire da un CAD dove tramite un disegno in un attimo si può generare un codice ISO a volte complesso, insomma male non fa avere questo in 30 secondi. Di qui a mettere il pezzo in produzione è un altro discorso che affronteremo poi col tempo. però sicuramente diventa uno affascinante, due più semplice. Vedremo anche bene, mi auguro che il video sia stato di vostro interesse, se così fosse mi farebbe piacere e vogliate mettere un like al video stesso e condividerlo con tutti coloro che possano avere interesse per la tornitura in genere, per le lavorazioni meccaniche, per la programmazione ISO. Un grazie a tutti per avermi seguito e vi auguro una buona giornata, ciao ciao!